L'umanità sta vivendo tre rivoluzioni in contemporanea, quella della globalizzazione che in questo momento è messa in forza dalla guerra in Ucraina, quella delle fonti energetiche dove stiamo passando alle rinnovabili delle fonti fossili e poi la rivoluzione digitale. Dove siamo io dico a metà del guado, le ultime novità dell'intelligenza artificiale, del chat, GPT e così via. Io credo che tutte e tre le rivoluzioni porteranno dei benefici, già ne hanno portate, in particolare quella digitale, se sapremo regolarla in maniera adeguata, porterà ancora grandissimi benefici all'umanità.